ciao raga benvenuti al mio nuovo canale questo è il mio nuovo canale spero che siete bene e in questo video giocherò minecraft e iscrivetevi al canale andiamo a creare un nuovo world una nuova mappa do crea un mondo ovviamente lo aveva scrivo il mio come nome ci starega ok difficoltà normale ok crea sappiamo sappiamo ok sta caricando ok per la prima volta che sto creando il world perciò stacchiette tutte ste cose ci mette un po di tempo però vabbè si parte dai vedendo una beh ci stai stanno tanti alberi ok ci sta come sempre chiamo il legno prendiamo il legno e poi andiamo a creare il class team table 1 casting table e lo mettiamo qua da qua creiamo tutto questi poi il bastone c'è un c'è un di legno uno basta e poi e poi andiamo a creiamo questo ci servirà un po di cibo per creare il letto saliamo vediamo se ci sta un villa vicino wow c'è un po di cibo c'è un po di oro spada da oro vabbè vabbè ci sta bella roba insomma ci sta ok volevo prendere quel blocco di gold ma non c'ho gli strumenti per prenderlo vabbè ah visto che ci sta un po di stone pigliamolo da qua no ok ok quanti siamo cinque ci forse ci bastano ok basta ci bastano ci bastano rega ok dai ora mettiamo il nostro graph table qua creiamo di questo ok e andiamo a prima prendiamo un po di wolf per creare il letto andiamo sopra e anche un po di cibo ci servirà e poi andiamo sotto a minare dai quanti siamo due ci servirà un altro e creiamo il letto se no di notte i zombie ci ammazzano dai dove sei capra capra eccola 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 ci stanno due dai e dai e ammazziamo volete ci servirà un altro un po di legno per creare il letto e creeremo un po pure l'anno un po di nostra casa ovviamente di terra perché non c'è tante risorse ok basta la nostra casa da quanto ho visto ho deciso di creare vicino all'oceano così possiamo andare a viaggiare anche in oceano dai e poi quando oro le risorse prendiamo pure il blocco di blocco d'oro da qua tipo sopra questo quando c'è un bel posto c'è tipo qua lo famo qua va bene si si qua va bene ok ok c'è molto bello ok aspettate che stai un po ok dai no qua no andiamo un po sotto perché c'è un doro mannare un po troppo scavare un po troppo di terra la aspettate faccio prima aspettate faccio prima aspettate faccio prima un pizzicone per coso un po di legno eccolo la pala creiamo la pala e così ce la facciamo prima dai e ce la facciamo prima così con la pala leviamo un po questo così ok vi incontro dopo che ho fatto questo ok ragazzi guardate ho fatto tipo tutto qua creiamo che ci fai gallina e mo ti uccido no si è scappata ok devo quasi devo ok faccio un po di qua così sarà un po più bello ok ho completato questo lo rompo ok ragazzi qua tutta questa tutta la parte faremo la nostra casa ok aspetta completo questi buchi se no cado e non ci viene la nostra casa bella ok dai e un po qua iniziamo a fare la nostra casa ovviamente di terra cotta ma non è cotta vabbè ho detto una cazzata tipo così grande poi nei altri episodi questo è il primo episodio poi negli altri episodi faremo una bellissima nostra casa io penso di fare un castello così piccola va bene sì non ho tanto risorse vabbè vabbè ok tre blocchi alto poco vabbè poi vedremo quasi notte prima che arrivano i zombari ammazzarci mi devo sbrigare dove sta la terra eccola dai ce la farò spero se no questi zombi mi uccidono ho fatto un blocco in più ok e poi pure da qua per il momento mi chiudo dentro continuerò domani ok qua creo il letto aspettate no il nostro croissant sta fuori ah lo devo andare a prendere per forza lo vado a prendere e mi sbrigo mi devo sbrigare sennò questi mi uccidono ci sta creeper da per fori per fori ce la faccio ahhh scappa scappa chiudi oh godo ok eccolo lo mettiamo da una parte qua crea il nostro bello letto 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 ok forse basti ok forse basti eccole il nostro letto ah non ci ha creato perché no no ehm il letto ahhh sto crea il letto voglio il letto letto no non mi si è boccato il gioco forse aspettate ah si ah si è perché sto fa una cazzata ci ho pochi blocchi ecco forse ora se lo posso creare si perché no letto forse l'ho creato non ci lo aspettate morrivo non no ah si perché non clicavo sul craft table eccolo l'abbiamo creato lo metto qua e mi metto a dormire ok è giorno ora forse da quello che sento ci stanno i mob fuori spero di no però ci stanno no no non ci stanno dai metto la terra qua ok da qua mettiamo la nostra porta dai ci bisogna fare il tetto ma non abbiamo la torcia perciò non l'ho fatto la blocco se no entrano gli altri i mob in casa ok andiamo sotto e piamo un po' di carbone ci servirà a fare i luci ok eccolo speria spero di trovarlo no bisogna andare un po' giù perciò trovarlo quando lo trovo vi incontro ciao ciao regà forse ho trovato un mine spero di sì no cos'è cos'è se ci arriva qualche mob mi preparo a scappare ok da qua posso tranquillamente scappare raga sto cercando un po' di carbonio non ci sta non ci sta il carbonio qua non ci sta il carbonio ah mi sono fatto male esce da megma ecco la nostra casa non so dove trovare il carbone forse ci sta quella montagna là ci sarà il carbone sì lo vedo lo vedo lo vedo il carbonio abbiamo trovato il carbonio ah mi farò male ecco lo sono fatto abbiamo trovato il carbonio mi pio un po' di fiori per decorare la casa mia diversi pure ok basta forse bastano eccolo il carbonio l'abbiamo trovato ah ci sta pure il coso e mo pure argento ci sta argento due solo perché e qua questi quanti so oh l'ho preso sì abbiamo trovato pure un po' di argento ci sta oh ci sta un altro ci sta un altro ci sta un altro ah vedi quanti ci stanno ho trovato un botto di argento ci sta ci sta ho trovato un botto di argento ci sta un altro ci sta un altro ci sta altro dai eh quasi rotto un po' di carbonio eccolo l'abbiamo trovato un po' di carbonio eccolo un altro un altro dai per fare un bel po' di carbonio me lo merito scusate ma ma sto mangiando aspettate mo da tempo mano eh non parlo a a a a a a a Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo un bellissimo castello Andiamo a casa Ora andiamo a prendere Quel chest che ci stava Là sotto Da qua? Si Ok È quasi notte, aprivo quel chest Contenitore Eccolo, eccolo E metto tutta la mia roba da dentro E così È notte quasi pure Ok Chiudo Metto tutta la roba dentro Dove sta? Eccolo La cassa Metto questo 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 No No Ecco Questo Si Il cibo No Pure questo La spada Pure questo La spada Mi serve Un po' di blocchi Ci devo avere E ok Per adesso Posso tutto Casomai Se muoio Per adesso Posso tutto No Questo Questo Ok Sto Tengo Ok Ora mi metto a dormire Ok Bella raga In questo Video In questo video Lo finisco così Continuiamo in altri In altro video Ci vedremo La prossima volta Ok Ciao ciao Iscrivetevi Al canale Perché sono nuovo Iscrivetevi Ciao ciao Sai che amo Quando parli Amo i tuoi occhi Grandi Se avessi avuto Due cuori Te li avrei dati Entrambi Non sai quanto Mi ma